Presidente Moratorio, quindi un'iniziativa importante verso i disabili, le persone svantaggiate che potranno andare a vela, grazie a non solo il club Rotary di Imperia, ma a tanti club che si sono uniti in questo sforzo. Sì, tutti i club del Ponente si sono uniti per fare tutti, nelle loro realtà, questo giro in barca con i disabili, che credo sia un'iniziativa molto importante, il terzo anno che si fa a Imperia sarà particolare perché avremo l'occasione e l'opportunità di uscire nel momento in cui ci sono le barche d'epoca, quindi credo che tutti saranno anche contenti di poter vedere queste signore del mare da vicino. Quindi sarà l'occasione per tanti disabili di poter andare a vela veramente sul mare, veleggiare non soltanto Imperia, in tanti altri porti del Ponente Ligure e avere quindi dei momenti di vita sicuramente diversi dal solito. Certo, da Varazze fino a Ventimiglia ci sarà l'opportunità di vivere il mare, è una grande nostra risorsa e tutti devono avere l'opportunità di poterne fruire. Maria Rosa Maccarini è portavoce di Andar per Mare Onlus, che è questa associazione che metterà a disposizione l'imbarcazione, che è un'imbarcazione già nata e studiata perché Andar per Mare è nata proprio per favorire l'avvicinamento dei disabili al mondo della vela. Sì, l'associazione Andar per Mare Onlus è stata fondata 12 anni fa da un gruppo di amici, dei quali faccio parte. Abbiamo proprio pensato di voler offrire un servizio per i disabili, potessero queste persone con dei problemi salire su un'imbarcazione, provare a manovrare, ad andare a vela, però l'obiettivo era proprio quello di farlo senza pesare economicamente sulle famiglie o sulle associazioni che normalmente li ospitano. Grazie proprio a dei progetti che riusciamo a fare, grazie a delle associazioni come il Rotary Club in questo caso, riusciamo proprio ad ottenere questo risultato. I disabili che salgono sulla nostra imbarcazione sono tutti ospiti della generosità di queste persone e di queste associazioni e quindi li vogliamo proprio ringraziare. Quindi è un'attività che continua, dobbiamo dire. È un'attività che continua, che va avanti da 10 anni, 12. Per 5 mesi all'anno l'imbarcazione, in condizioni meteo permettendo, esce con a bordo i disabili. Quindi se tutti generosamente ci daranno una mano, se anche voi ci darete una mano proprio a divulgare l'iniziativa, noi continueremo. Se qualcuno volontario si vuole unire a noi, sarà bene, ben accetto. Grazie. 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 Grazie.